eccomi qua questo è un video selfie io per chi non mi avesse riconosciuto sono pupo e sono qui per fare il mio in bocca al lupo ai ragazzi dell'arte nel cuore che tra poco è così si esibiranno in questo spettacolo molto molto divertente particolare intitolato una pensione tutta pazza ragazzi io sono lì con voi in questo momento a dire la verità ci sono anch'io col cuore come voi fate l'arte col cuore io sono con il cuore in mezzo a voi ma non posso esserci fisicamente perché mentre voi vi esibite io sono in volo per mosca e mi sarebbe tanto piaciuto essere lì allora sono qua per abbracciarvi per farvi tutti i miei complimenti un grande saluto e un abbraccione da pupo continuate così bacioni ciao